goi radio armonia e fratellanza il percorso musicale francesco geminiani 1687 1762 il motivo per cui geminiani fu attivo fuori d'italia negli anni della maturità deriva dal fatto che un musicista come lui dedito esclusivamente alle composizioni strumentali trovava accoglienze degne del suo valore soltanto all'estero particolarmente nel mondo anglosassone virtuoso del violino e compositore la sua opera servì a promuovere lo stile squisitamente italiano e la tecnica che era stata tipica dei suoi maestri corelli e alessandro scarlatti per descrivere le emozioni che suscitavano i suoi concerti si sappia che tartini parlava di furibondo geminiani la maggior parte della produzione di geminiani è rappresentata da concerti per violino essendo stato questo lo strumento del quale fu principe scrisse anche opere teoriche dedicate alla tecnica dell'esecuzione del violino in particolar modo art of playing the violin edito a londra nel 1730 un lavoro didattico strumentale scritto ben 22 anni prima della violin di leopold mozart goi radio buon ascolto francesco geminiani concerto grosso numero 2 opera 3 in sol minore primo movimento largo staccato 4, 4, 4, 5, 15 e, 6, 0 4, 5, 6, 0 5, 2, 1 5, 1 6, 0 6, 0 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.